Hello, hello! Buonasera! Buonasera amici belli, bentornati a 105 Night Express, anche questo mercoledì sera con noi Rebecca Staffelli e Alessandro Sansone, ciao mitico socio! Ciao Rebecca, buonasera amici, bentrovati qui su Radio 105, se per caso ci steste seguendo dal 66 del Digitale Terrestre, quindi dal nostro canale televisivo, vi sarete accorti che la nostra sigla fa vedere, insomma, anche... Due poliziotti! A parte due poliziotti, due dei riss belli, stupendo, anzi no, due detective! Due detective, sì, è vero, ci sta di più forse! E' sempre il nome di una serie tv, due detective! Due detective! Potevano essere tre e invece sono due detective! No, invece qui dietro ci sono delle immagini che secondo me riprendono quelle della nostra sigla, perché se guardi alle mie spalle c'è Via Turati molto trafficata, Davvero? Molto trafficata, come mai? Che succede a Milano questa sera? Non lo so, c'è semplicemente un po' di traffico. Piove? No, 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 oggi è giornata decente. Beh dai, bene, anche a Roma, stanotte ragazzi è a me di...